Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale Davide Chiara Channel Bene, oggi video haul shopping fatto durante le vacanze Iniziamo con la cover Siamo arrivati di domenica, casualmente c'era al mercato E ho deciso di prendere questa bellissima cover Guardate qua, assomiglia alla ferpa che mi ha regalato mia moglie E già che c'ero ho preso anche il doppio vetro Ma dietro questo doppio vetro c'è una storia che ve la racconto dai Allora, quello del mercato che mi ha venduto la cover E mi ha dato il doppio vetro Gli ho chiesto se mettere il doppio vetro Mi ha detto di sì Praticamente cosa ha fatto? Praticamente gli ho detto se mettere il doppio vetro Ma ha risposto di sì Me l'ha messo Però praticamente non andava bene Perché era una bolla unica Perché era tutta una bolla unica, non si vedeva niente E gli ho detto ascolta Toglimela e rimettime un'altra Però dato che l'ho visto impacciato Gli ho detto ascolta, toglimela e niente Praticamente alla fine anche in spiaggia Mi hanno dato, ho trovato un doppio vetro Me l'hanno dato, si è spaccato Però è stato gentile quello che me l'ha venduta Perché mi fa, l'ho messa, te l'ho spaccata E non te la faccio pagare Alla fine siamo entrati in un negozio Mia moglie me l'ha presa E me l'ha messa bene finalmente E dato che in questo negozio Ci siamo trovati molto bene In un negozio di indiani Allora ho preso Questi auricolari Che sembrano quelle dell'iPhone Senza fili Però queste hanno un doppio vantaggio E vi spiego il perché Adesso vi faccio vedere un attimo La scatolina prima Ah questa qua è la scatolina Come vedete no? Qua ci sono gli auricolari Che sono uguali a quelle della Apple Vabbè quelle della Apple sono molto Già che costano il prezzo che costano Però sono uguali eh Da qua si accendono Da qua si spengono E da qua si risponde Da qua schiacciando così Si caricano le due auricolari E da qua si carica La scatolina In modo che una volta Che la scatolina è carica La si porta in giro E schiacciando qua Si caricano le auricolari Sicurezza Ma il bello di queste Senza andare a spendere I 180 euro Delle Apple Queste qua Sono compatibili Sia per Android Che per IOS Quindi Per 10 euro Proviamo Finché vanno Vanno Invece In spiaggia Ho comprato A 10 euro l'una Che voleva di più Abbiamo contrattato Questa Bella collana qua Fatta di conchiglie vere Questa qua L'ho regalata A mia moglie Questa qua Invece Sempre fatta Di conchiglie vere Però qua La conchiglia è diversa Ho pensato Anzi abbiamo pensato Di prenderla Per la nonnina Dato che a lei Gli piacciono Queste collane E Non se la fa togliere Perché gli piace Veramente tanto E praticamente Per fare il video Gli ho detto Nonna Devo fare il video E la voleva tenere su Perché comunque Per lei Questi sono Regali Importanti Anche se Di poco valore Però per lei È un valore Affettivo Molto alto Perché Le abbiamo fatto Io e Chiara Con il cuore Infatti adesso Le devo andare A restituire Perché Si è affezionata Tantissimo A questa collana Credetemi Poi Già che c'ero Ho preso Per Denis Mio nipote Io e Chiara Abbiamo preso Near for Com'è che si dice Near for Come è che si dice Near for speed E dillo no Near for speed Payback Non ti ricordi For back E com'è che è questo gioco Denis Com'è che è questo gioco Interagisci Te che sei È bello Perché è timido Le macchine E parla no Parla di sto gioco Un attimino Perché È stato acquistato Ma io non so Spiega a te Allora Fatti vedere È timido È timido oggi È timido Allora Puoi Hai un sacco di macchine Sia Da Corsa Da drift E da Cioè Da Come si dice Non da in duro A me Le macchine che vanno Nelle montagne Adesso mi viene il nome E puoi modificartele tutte Non solo motore Che dici Che va più veloce Proprio puoi scegliere tu Come farti L'estetica della macchina Con Tipo Ci sono dei vari pezzi Puoi modificare Puoi colorare tipo L'alettone Queste robe qua È un gioco bello Divertente Che si può anche giocare In doppie persone Cioè Online In tante persone Già che ci siamo Se qualcuno vuole Giocare A Come è che A A Fortnite Dennis Dadu Basta Se volete giocare Con lui A Fortnite Dato che chiede sempre Dennis Dadu È il suo nick Ma adesso lui gioca sempre con Degrado Brius Adesso c'è Degrado Che lo fa A Malika invece L'abbiamo preso Questo casio Originale Perché abbiamo trovato Un'offerta Gli piaceva Sapevamo che lo cercava Così Il negozio E il negozio L'abbiamo preso È originale No faccio vedere anche il dietro Guardate il dietro Ha ragione Perché magari pensano Mi dicono che Davanti c'è il sito casio Ma dietro invece è falso C'è anche il chiede sul cinturino C'è scritto anche Vediamo Qua Guardate Proprio L'avevo anch'io Cioè È originalissimo Dato che lo cercava Lo volevo prendere anch'io In oro rosa Quello con oro rosa Ma non c'era E l'abbiamo fatta contenta Anche a lei A mio padre A mia madre Non c'era niente Chiara mi ha detto Mi aveva voluto far provare La Una lingua di suocera E poi Per tutta la famiglia Abbiamo preso Dieci lingue di suocera Che sono sparite In due giorni Però Non disocire Però eravamo Tanti Si chiamava Ponte No Poi invece Durante questo Lungo viaggio Ma pesantissimo Arrivati in centrale Diciamo solo Calvin Klein Siamo arrivati In centrale Siamo scesi Siamo usciti Abbiamo trovato Il negozio Di Calvin Klein Guardate qua E guardate qua Li cercavo da tanto E sono Boxer Originali Di Calvin Klein Scontati Del 50% Infatti Li ho pagati Anziché 25,50 euro Sono stati pagati 12,70 euro E vi faccio vedere Anche Perché qua Ragazzi Non si scherza Guardate qua Originali Calvin Klein Offerta Proprio Magnifica Sono Stati presi Proprio Nel negozio Di Calvin Klein Infatti Io Questi qua Li cercavo Da tanto Però Mi seccava Spendere Tanti soldi Per un paio Di box Perché Realmente Spendere 27 euro Per un paio Di box Mi sembra Un po' Eccessivo Però Avendoli trovati Scontati Perché no Concludiamo Ritorno delle fene In bellezza Con un paio Di boxer Che a me Piacciono Ragazzi Una cosa importante Mi sono dimenticato Di farvi vedere L'ultimo Acquisto L'ultimo Regalino Che ci siamo Fatti Questa qua È una cassa Che si collega A bluetooth E credetemi Una cassa È piccolina Ma per ascoltare La musica È bella potente Vedete Qua c'è l'ingresso USB C'è l'ingresso Se non sbaglio Della memoria esterna C'è il cavetto Naturalmente Ve la vendono Col cavetto USB Che si attacca Qua A questa presa Qua È una bomba Perché credetemi In spiagge Si sentiva Che era una meraviglia Perché l'ho provata Molto bella Se la volesse prendere La trovate in qualsiasi Negozio di cinesi Anche È veramente bella Cioè E pensate Si può attaccare Con bluetooth E con cavetto E qua dentro C'è una batteria Che sembra Quella di cellulare Di una volta Ma anche da radio Niente Mia moglie Ha fatto proprio Il degrado Nel degrado Che ha speso Ma giustamente Mia moglie Ha voluto Fare shopping Proprio All'impazzata Quello che gli piaceva Prendeva Ah Vi ricordo una cosa Se dovesse andare A Moneglia Bellissima Che è un paradiso Ha fatto conoscere Infatti l'anno prossimo Ci ritorneremo Bellissima Anzi vediamo Vediamo Ah tra l'altro Vi faccio uno spoiler A ottobre Faremo un altro viaggetto Non vi dico dove Però non vi diciamo dove No 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 E faremo vlog anche lì Sono molto contenta Quindi a ottobre Poi c'è anche un perché Facciamo questo viaggio Che poi verrà detto Tutto lì insieme Sì sì No aspetta Top Ciao Vabbè Mi ha rubato la scena Martina in onore di Blues Che lui l'ha già visto Guardate cosa ho trovato No aspetta Si è leggendo Aspetta Degradate Vabbè comunque Degrado Degradate Guardate così Bellissimo Vabbè comunque Non so se Degradate c'è scritto C'è scritto Non riesco a farvelo Non so perché non ci sta Degradate In onore di Blues Come ha detto lui Qua è un degrado totale Comunque ragazzi I regali Fatti in vacanza Ve li ho fatti vedere Spero che questo video Vi sia piaciuto Con la partecipazione Del mio scheletrino Nipote Dennis Che stasera è timido Iscrivetevi No come era Iscrivetevi Aspetta Ringrazio tutti Gli iscritti Iscritti Gli iscritti di sempre E Dennis devi dire Iscrivetevi tutti Iscrivetevi tutti Se no vi veniamo a prendere a casa Con l'aiuto di Chiara E Vi schiacciamo il tasto Iscriviti E mi piace Mi piace Mi piace Iscrivetevi al canale di Coppia Davide e Chiara Channel Al canale Davide Sto degradando Iscrivetevi al canale Di Chiara D'Alessandro E Chiara D'Alessandro ASMR Spero che questo video Vi sia piaciuto Un salutone E Yeah Ciao Alla prossima